il trittico stefaneschi venne realizzato da giotto insieme agli aiuti della sua bottega l'artista nato nel 1267 a vespignano piccolo paese vicino firenze è considerato colui che portò l'arte italiana verso la modernità a giotto infatti dobbiamo alla rappresentazione dei sentimenti di figure plastiche e monumentali inserite in uno spazio che comincia a essere concepito attraverso un inizio di prospettiva il politico proviene dalla basilica di san pietro a roma e fu commissionato dal cardinale jacopo stefaneschi per essere collocato nell'altare maggiore l'opera si compone di tre scomparti e per questo prende il nome di trittico inoltre vi sembrerà strano ma è dipinta da entrambi i lati questo perché doveva essere visto sia dai fedeli che dai canonici che celebravano le funzioni religiose le immagini raffigurate nel trittico ruotano tutte intorno alla figura di san pietro titolare della basilica e san paolo l'altro apostolo le cui reliquie sono conservate a roma entrambi i santi sono considerati simboli e fondamenta della chiesa cattolica romana nel lato frontale al centro vediamo san pietro in trono tra angeli e offerenti sui pannelli laterali san giacomo e san paolo a sinistra sant'andrea e san giovanni evangelista a destra nella predella cioè la parte bassa del politico l'unico pannello superstite riproduce santo stefano e due santi dall'altro lato sul retro al centro troviamo cristo in trono con angeli e il cardinale stefaneschi ai suoi piedi ai lati la crocifissione di san pietro e la decollazione di san paolo i tre scomparti della predella raffigurano la vergine in trono col bambino tra angeli san pietro e san giacomo in posizione centrale e a seguire cinque apostoli per parte nelle cuspidi sono presenti tondi con angeli e santi o profeti un piccolo trucco per riconoscere la miriade di santi che affollano i politici nel corso della storia dell'arte vi basta ricordare che ognuno di loro ha sempre uno o più simboli che lo contraddistinguono alcuni esempi san pietro anche in quest'opera tiene le chiavi del paradiso in mano san paolo tiene in mano un rotolo o un libro e a volte la spada san giacomo porta un libro e il bastone simbolo di pellegrinaggio e così via il trittico stefaneschi è sicuramente tra i politici più famosi e uno dei maggiori capolavori conservati nella pinacoteca vaticana video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando saluto e al prossimo video di arte